Le grandi adunate di un tempo, quelle che riempivano ville e centri congressi, sono ormai un lontano ricordo. La Forza Italia di oggi è un partito che a Varese appare decimato nei numeri e nelle energie, spolpato dal peso egemonico della Lega e alla disperata ricerca di un'agenda da cui ripartire, di un leader al quale affidarsi. E così le tre settimane di Tam Tam e gli stati generali aperti a tutte e tutti sono serviti a colmare la saletta Aller di Via Monterosa e a riaffermare il ruolo cruciale di Massimiliano Salini, oggi europarlamentare, ieri presidente della provincia di Cremona. A lui il compito di ricucire il cuore lacerato degli azzurri, ma anche di sdoganare un partito varesino che senza un riferimento sovralocale rischia di consumarsi nell'isolamento politico. L'esponente del PPE, affiancato dal senatore e commissario Caliendo e dagli attuali dirigenti Taldone e Farioli, crede in un centrodestra compatto, ma rimprovera a Salvini la grande occasione mancata quella dell'autonomia sacrificata sull'altare della più mediatica chiusura dei porti. Questo è un dato di fatto, so che gli amici della Lega non sopportano queste mie affermazioni, ma è indiscutibile che il tema dell'autonomia è rimasto sempre sulla carta, sempre tra i punti programmatici dichiarati nei comizi elettorali, ma concretamente nell'agenda del governo giallo-verde l'autonomia è passata nel dimenticatoio, è diventato un argomento marginale, si è picchiato i pugni su altro, sui porti, su tutte cose legittime, ma non è stata una priorità, come tale non è stata trattata, lo è. Lo è perché l'unità di questo paese paradossalmente dipende proprio dal riconoscimento di quell'autonomia. L'autonomia è lo strumento perché il concetto di sovranità coincida col concetto di responsabilità.